Per vivere bene, io ho fatto tante esperienze nella mia vita, quindi non è stato soltanto soffermarsi su quella che era un'evoluzione di quello che tu volevi fare come lavoro, ma un po' un lavoro enciclopedico, un po' un lavoro che doveva coronare quello che per me rappresenta un po', se dovesse essere un fiore, un girasole nella mia vita, tanti petali. Quindi il girasole è grande, è simpatico, è colorato, è gioioso e io volevo tanti petali nella mia vita perché la mia vita non è stata così divertente e così colorata da bambina. E quindi era proprio il sogno di invece poter avere una sensazione di famiglia anche in quello che non era proprio la famiglia di appartenenza. Tutto quello che ho fatto serviva a riempire dei vuoti che non c'erano, quindi se prima non riempivi quei vuoti non ti potevi sentire sicura di te nel portare avanti le tue idee.